ragazze buonasera buon pomeriggio allora io in piena attività vedete come sono combinata allora questi sono i famosi bigliettini che ho staccato piegato tutto quanto qua ci sono 10 sacchetti di confetti che ho fatto ora e ora mi devo fermare perché mi sono finiti i veli una volta manca una cosa una volta ne manca un'altra comunque e ora mio marito è andato a prendermeli noi li abbiamo comprati e mia figlia dai cinesi ve li faccio vedere io li adoro questi confetti quanto mi piacciono quanto mi piacciono nella loro semplicità guardate che sono carini mi piacciono un sacco io mi sto vedendo abito da sposa cerca si vedo tutte le spose che si comprano si provano gli abiti da sposa comunque vi stavo dicendo quindi che ho fatto questi sacchetti di confetti e ora appunto ci vogliono gli altri veli però nel frattempo io non mi fermo vado avanti perché devo attaccare le etichette quindi diciamo un'altra cosa da fare ce l'ho devo attaccare le etichette e ora le metto sia nei confetti che nelle wedding bag poi quando mio marito ritorna e vediamo se posso continuare appunto con con i sacchetti dei confetti vi faccio vedere di nuovo il cartoncino plastificato vedete ve lo faccio vedere da lontano praticamente poi questo lo metterò nella tavola e della confettata e uno penso che lo metterò pure qui ce n'è un altro lo metterò nel tavolo del photo boot molto carino è venuto questo cartoncino mi piace molto diciamo questo bouquet di fiori così mi piace la scritta mi piacciono molto quindi questi li metterò nei tavoli di confettata e photo boot e ora attacco le etichette quindi insomma qualche cosa da fare ce l'ho sempre ok ragazze devo chiudere questo brevissimo video vi voglio fare vedere l'adesivo messo nel wedding bag come vedete questo è un adesivo doppio quindi va da questa parte e anche da questa parte e mi serve anche in un certo senso se mette a fuoco magari lo capite meglio mette a fuoco mette a fuoco comunque ragazze mi serve anche perché praticamente con questo adesivo la busta si chiude anche vedete niente non vuole mettere a fuoco vediamo più lontano comunque ragazze questo è il risultato della wedding bag pure con con il mio adesivo vi faccio vedere qua ci sono le altre che già sono pure completate vedete tutte con l'adesivo e vi faccio vedere quelli confetti che ho fatto appunto con con l'adesivo nel nastrino guardate quanto sono carini sono un amore questi po questi confetti guardate guardate che carini vedete vedete ok mio marito i veli non li ha trovati quindi domani sono costretta a scendere e a cercarli in qualche altro negozio sempre di cinesi ma comunque ormai devo fare gli ultimi 20 pacchetti di confetti quindi mi sembra proprio una fesseria quindi domani vediamo anche domani pomeriggio intanto appunto mi sto facendo questo lavoro di etichettatura ok ragazzi allora io vi saluto vi metto subito questo brevissimo video vi faccio due minutini di compagnia e comunque noi ci vediamo domani mattina ciao